Abito in città. Vengo da Milano. Sono in strada. Mario è al bar con Lucia. Il treno sta per partire. Vogliamo andare a Roma. Parte oggi a mezzogiorno. Parto da casa alle 10. Ho appreso la notizia da te. Vive a Roma e Parigi. Metto il vaso su un tavolo. Un suono di campane. Una giacca in pelle. Il cane è di un mio amico. Domani andrò in montagna. Fra tre mesi sarete in vacanza. I genitori di Luca partiranno per Pisa. I turisti torneranno a casa domenica. Domani pranzeremo alle 14.30. Luigi porterà i suoi figli in gita. Il latte non basterà per domani. Voi berrete il latte a colazione? Loro andranno al mare per un mese. Lei verrà domani da te. Noi saremo contenti di vederti. I miei amici avranno presto il libro. Noi dovremo aiutarla a finire. Tu avrai il coraggio di dirglielo? Commerciare. Il commercio. Decidere. La decisione. Organizzare. L'organizzazione. Passeggiare. La passeggiata. Affittare. L'affitto. Attrezzare. L'attrezzo. Invadere. L'invasione. Arrivare. L'arrivo. Pescare. La pesca. Urgere. L'urgenza. Scavare. Lo scavo. Soccorrere. Il soccorso. Migliorare. Il miglioramento. Sviluppare. Lo sviluppo. Aprire. L'apertura. Allargare. L'allargamento. Potere. Il potere o la potenza. scoprire. Scoprire. La scoperta. Guardare. Lo sguardo. Soffiare. Il soffio. Bere. La bevuta. Soffiare. La bevuta. Scoprire. Scoprire. Non me ne andrò prima di aver finito. Ogni sabato viene a mangiare da noi. In alcuni giorni lo vedevo sempre. I miei amici vengono tutti da Torino. Luca si è trasferito in campagna. Avrà quindici anni tra due giorni. Mi aspettava con le mani in tasca. Sono stato a casa per tre settimane. Siamo stati svegliati dall'esplosione. Ieri sera siamo andati al cinema. domani sera andremo a teatro. I miei amici arrivano fra due giorni. È da una settimana che sto male. Io ce l'ho fatta a finire in un'ora. Tu sei veramente gentile. Può fare questo facilmente. Mi ha parlato freddamente. Il film è stato realmente bello. Ti hanno sentito perfettamente. Ho fatto velocemente i compiti. Eventualmente vengo domani. Si mangia principalmente freddo. Non potevamo fare altrimenti. Mi sono fermato immediatamente. Guido sempre molto attentamente. Guido sempre molto attentamente. Andiamo direttamente a casa. Ti sei mosso davvero agilmente. Me l'hai chiesto gentilmente. Me l'hai chiesto gentilmente. Ho conosciuto il padre di Giorgia. Matteo è un dottore molto bravo. Matteo è il mio dottore da anni. Il mio professore è giovanissimo. C'è un gatto sul marciapiede. C'è un gatto sul marciapiede. C'è il gatto di Ilaria sul prato. Ho trovato un paio di pantaloni. Claudio ha trovato un vestito. Abbiamo preso il nuovo telefono. Ho preso un brutto voto a scuola. Hai ottenuto il voto migliore. Luca è il più simpatico a scuola. Ho avuto una bellissima idea. Il medico è stato intervistato. Ieri mio figlio è andato al cinema. Una volta si andava al cinema in famiglia. Se non piove, dopo andrò a fare un giro. Vuoi che ci vediamo dopo domani? No? Allora vediamoci tra dieci minuti. Mi consegnano l'auto entro due giorni. Un tempo mi piaceva mangiare le lumache. Oggi non ho il tempo di partecipare. Da alcuni mesi non vedo più Luca. Mi hai chiamata? Vengo subito. Ho aspettato il bus per mezz'ora. Finora non c'è stato traffico. Adesso fa molto più caldo di prima. domani sera andiamo al cinema. Poco fa ho incontrato Roberto. Luca guida l'auto da tre anni. Sarò a Roma fra dieci giorni. Due giorni fa è venuto Paolo. da quanto studi l'italiano? Fra un mese parto per la Spagna. i bambini dormono da poco. Fra due anni finirò la scuola. Da quanto tempo conosci Marco? l'ho comprata nuova un anno fa. L'estate inizia fra un mese. non vedo Sara da due giorni. ci sono già stato sei mesi fa. un'ora fa stavo lavorando. Trovate la risposta tra le proposte. Abito a Bruxelles da dieci anni. Bruxelles si trova in Belgio. Hai accettato di venire a casa mia? Lo rivedo sempre con gran piacere. Questo è un fazzoletto di seta blu. Laura, ti diamo il benvenuto tra noi. Fate una ricerca sui giornali. Bevono un caffè e parlano tra loro. grazie per la tua collaborazione. Lisa vive con i suoi genitori. Prendo una pillola per il mal di testa. Lo zio viene stasera tra le otto e le nove. Sono in biblioteca fino a tardi. Carlo è nato a Milano. In Italia. È italiano. in italiano. Abito ad Atene. In Grecia. Sono greca. Luca non è tedesco, ma va a Bonn, in Germania. Lui viene da Londra, in Inghilterra. È inglese. Claudia è di Parigi. In Francia. È francese. Roberto è di Berna, in Svizzera. È svizzero. Lidia abita ad Algeri, ma non è algerina. Chi è nato a Palermo è un palermitano. Chi è nato a Firenze è fiorentino. Sua zia è giapponese. Viene da Tokyo. Carlo è di Milano e lavora in Svizzera. Mario viene da Firenze, in Toscana. È toscano. Claudia abita a Madrid. In Spagna. È spagnola. La Germania è in Europa. È un paese europeo.